Se mi si chiede di affidare la vita quotidiana dei cittadini di comuni con sindaci democraticamente eletti a un ministro dell'interno che per quattro anni occupa abusivamente quel posto perché le elezioni non sono state fatte, io dico di no. E dico anche che di quei 1500, 100 erano rifugiati e meritano assistenza di lusso, gli altri che non sono rifugiati, che sono arrivati qua a cercare per carità maggior fortuna, io do assistenza e poi li rispedisco a casa loro perché non hanno diritto a essere qui. Allora se questo paese è in grado di decidere rapidamente chi merita assistenza perché è rifugiato e ha diritto ed è il 5%, lo dicono gli esami dei centri di accoglienza, a questi diamo tutto quello che meritano come chiede anche il diritto internazionale, a tutti gli altri organizziamo un sistema efficiente di rispingimento nei paesi di origine. Perché se io come Italia devo spendere 4 miliardi e 300 milioni per il problema dei migranti, preferisco spenderli a casa loro dando assistenza non soltanto a chi parte e viene qua a fare il prepotente ma anche a coloro che rimangono là e muoiono di fame senza che nessuno se ne preoccupi e che meriti trasmissione come porta a porta, io decido di investire 4 miliardi nei paesi di origine.